ciao siri chiami gianni chiamo gianni rosetta ciao bella ho bisogno di un consiglio per come gestire i social e tu in questo sei un grande un king qual è il segreto sono contento che tu mi abbia chiamato per risolvere questo problema ma io non credo che esistano strategie particolari almeno io non penso proprio l'unica cosa che posso dirti è che la banalità batte sempre l'odio gianni sei grande ti amo che è sta monnezza che è sta monnezza questa te la bevi tu e tre quarti dalla palazzina tua vattene vattene sbrigate pure ma guardate scusa rosetta no è uno che è passato sì 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 tutto bene la banalità batte l'odio ciao rosetta ciao ciao voglio del crystal cacci l'oro Grazie a tutti.